Un problema mentale. Insiste ancora su questo aspetto il tecnico Primo Maragliulo che si assume le responsabilità principali per la miniserie di tre sconfitte consecutive che hanno reso di nuovo preoccupante la classifica della Virtus Lanciano che ad oggi è ancora al di fuori della zona play-out retocessione ma già nelle prossime ore potrebbe tornarci se dovesse arrivare la temuta penalizzazione. Responsabilità perché, a detta dello stesso tecnico, non ha saputo motivare il gruppo che, specie nelle gare casalinghe con Perugia e Dentella, ha fallito l'approccio alla partita e non ha messo la giusta determinazione e cattiveria. È pur vero che la rimonta delle giornate precedenti è stata impetuosa con un ritmo addirittura da promozione ed è in realtà normale che la Virtus abbia pagato il grosso sforzo, anche mentale tanto che forse qualcuno ha pensato che il più per la salvezza era stato fatto. È evidente che non è così perché fermarsi in questo momento della stagione è sempre deleterio e lo è ancora di più per una squadra che potrebbe subire una penalizzazione. Allora, per ritemprare il gruppo, e su questo Maragliulo potrebbe agire, l'inserimento di elementi freschi e che hanno voglia di fare, anche con qualche limite, potrebbe essere un tocca sana. Giocatori come Milinkovic, Giandonato, Bonazzoli aspettano la loro chance così come concedere una giornata di stop almeno dal primo minuto a chi sembra un po' in debito d'ossigeno come Marilungo, in attesa dello sprint finale, potrebbe essere un'idea. Lo sconto diretto di Latina costituirà un banco di prova perché determinate scelte saranno obbligate. La difesa è ai minimi termini, rigione alle prese con la fascite plantare è monitorato quotidianamente, si cerca un difficile recupero anche perché con Boldor, reduce dall'operazione, e con Aquilanti a Menta squalificati l'unico centrale arruolabile è Di Filippo. In mediana proprio Giandonato avrà la sua opportunità con Bacinovic appiedato. Sulla strada della Virtus due tecnici dal recente trascorso, prima Carmine Gautieri e poi Marco Baroni. Gautieri è stato chiamato a risollevare le sorti del Latina, anche se una svolta consistente non c'è stata, sei punti per lui in altrettante partite. Anche per Gautieri il match con il suo recente passato è uno snodo cruciale di questo finale di stagione e il pomeriggio del Francioni promette di essere carico di tensione. Grazie. Grazie.